Miu, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, racconta alcuni ostacoli che ha trovato nella sua vita lavorativa, i pregiudizi delle persone a proposito delle sue problematiche. Manca sempre meno alla prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il pubblico è in trepida attesa di scoprire tutte le novità, i professori e gli allievi che renderanno unico questo 2024. Purtroppo c'è stato un ritardo nel palinsesto e la prima puntata dello show non andrà in onda, come era stato invece precedentemente annunciato, nella giornata di oggi, domenica 15 settembre. Ma, nel, attesa, andiamo a scoprire qualcosa su quella che, nonostante tutto, è stata una protagonista di questo anno appena passato, Miu. Amici, Miu e i problemi di depressione. Miu, al secolo Valentina Turchetto, è stata per un breve periodo un'allieva di questa ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ragazza era entrata nel programma a settembre ed era stata molto apprezzata, tanto che si faceva già il suo nome come una delle possibili vincitrici. Nella casetta, Valentina trova anche l'amore al fianco di Matthew, anche lui un cantante entrato nello show. Ma poi, all'improvviso, i due decidono di ritirarsi. Soltanto tempo dopo, Miu spiega che ha avuto problemi di salute mentale e ha deciso di fare un passo indietro per riprendersi. Miu rivela. Tanti pregiudizi da parte di alcune persone. Miu è stata intervistata da Cosmopolitan, e qui ha avuto modo di parlare un po' di sé. Ha dedicato uno spazio al problema della depressione e della salute mentale, spiegando anche come ha vissuto la situazione. Purtroppo, Valentina segnala che a causa della sua situazione ha incontrato diversi pregiudizi nella sua vita lavorativa, specialmente da parte di persone da dopo i 40 anni, quindi dalla generazione X, toccando gli inizi della generazione Y. Queste persone sembra tendano a sminuire la condizione di sofferenza della cantante che poi, invece, spiega che è tutto diverso per quanto riguarda i giovani. Amici, Miu parla del suo nuovo brano, Hai per lacrime, Valentina ha modo anche di parlare del suo nuovo brano, Hai per lacrime. La ragazza spiega che con, Posa tenebre, ha avuto modo di parlare del suo percorso subito dopo l'uscita dal talent e di come ha affrontato la depressione. Ora, invece, passa a sensazioni diverse, ma continua a dedicarsi alla salute mentale. Inoltre, ha modo di dar sfogo al racconto di un amore passato che ha lasciato delle tracce nell'interiorità della ragazza. Insomma, Valentina ha voluto farsi conoscere ancora di più dal suo pubblico.